Oltre 10.300.000 euro, a tanto ammonta l'entità delle somme recuperate complessivamente a favore dei lavoratori che si sono rivolti alla CISL Monza-Brianza-Lecco nel 2017. 940 le pratiche relative a vertenze e fallimenti, 216 a procedure concorsuali. L'azione più richiesta è il recupero crediti, 463 casi su 653. Oltre 10.000.000 euro specifica il responsabile dell'ufficio vertenze CISL, Stefano Goi, che sono per la maggior parte stipendi non pagati dalle aziende. I segnali di ripresa ci sono, ma nonostante questo, spiega Mario Todeschini della segreteria, dobbiamo sempre affrontare chiusure e insolvenze. Nodi che spesso richiedono appunto l'intervento dell'ufficio del sindacato con i suoi dieci operatori dedicati che hanno come basi le sedi di Lecco, Monza, Carate, Seregno e Vimercate. Il nostro intervento, aggiunge Goi, è spesso richiesto perché la flessibilità è interpretata in maniera un po' troppo disinvolta da alcuni datori di lavoro. Può così succedere che l'istituto del tirocinio venga utilizzato per far lavorare una cassiera a tempo pieno in un supermercato per 400 euro al mese. L'ufficio vertenze ha gestito anche 2.683 pratiche di dimissioni. Alla CISL si sono rivolti i lavoratori che si erano licenziati, scoprendo poi però che l'azienda, a loro insaputa, aveva ritirato le dimissioni. Tra questi, precisa il sindacalista, c'è ovviamente chi lo fa perché ha trovato un'occupazione migliore, ma si scoprono anche problemi più rilevanti, come carichi di lavori eccessivi, trattamenti ingiuriosi, rifiuti alla concessione di giorni di ferie. L'ufficio ritiene che un decimo delle dimissioni seguite nel 2017 sia legato a questioni proprio di questo genere. Lo staff intero di un ristorante, nove persone, per esempio, si è dimesso in blocco per via di orari insostenibili. Nella nostra attività, aggiunge Todeschini, abbiamo riservato un'attenzione particolare alle discriminazioni di varia natura, ma ormai i luoghi di lavoro sono meno fisici e più labili, i riferimenti normativi sempre più complessi. Serve dunque una forte azione contrattuale, normativa e sindacale.